Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, siamo tornati qui con Naruto Ultimate Ninja 2, pronti per la battaglia! Colpita! Mille falchi! Fai così, Sasuke, che la distruggiamo! Shidori! Wow, quanto danno! Adesso ti spiezzo in due! Bye bye! Bene! Non contarci! Non così in fretta! Cos'è successo a Temari? Sto bene, non chiedermi come! Temari! Tu! Non sono riuscito a tenere la bada per molto! Eh? Temari! Questa volta vai tu con Gara! Kankuro! Io cercherò di distrarlo! Io cercherò di distrarlo! Sei sicuro di farcela? Non preoccuparti! Lascialo a me! Eh? Tss! 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 Così è venuto, eh? Sasuke Uchiha! Tss! 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 Fiume ha fatto venire i privi di questo cancoro. Cattivello, cattivello. Non può essere. Non riesco a crederci. Molto bene. Non così in fretta. Non la passerai liscia tanto facilmente. Questo è un fumogeno velenoso. Avresti dovuto fare più attenzione. Perdonami Sasuke Uchiha. Shinoburame può essere potenziato in personalizza. Kiba Inuzuka può essere potenziato in personalizza. Non è ancora finita. Non andrai oltre. Naruto! Lascia in pace i miei amici. O sarà peggio per te. Voglio proprio vedere. Da quest'altra parte la battaglia tra il terzo Okage e Orochimaru. Anche se riusciti a sconfiggere me per il villaggio non sarà alla fine. Un nuovo e più potente Okage prenderà il mio posto. E il villaggio della foglia continuerà a vivere. Quante assurdità. Sono stato uno stupido gredulone. È ora di porre rimedio al mio errore. E di seppellirti per sempre. Troppo tardi stupido vecchio decrepito. Sconfiggi il nemico usando una tecnica segreta di livello 3. E qual è questa tecnica segreta di livello 3? Forse intende queste qua contro il triangolo. Colpito! Tecnica della moltiplicazione superiore degli shuriken. Arte magica shuriken gigante. Colpito! Tecnica di confinamento sigillo del diavolo! Sconfitto. Spero che sia questa la tecnica segreta di livello 3. Mi auguro. Penso di sì. Penso sia questa. Se no non mi facevo andare avanti. Ok, era quella. Bene. Bene. Per oggi è tutto. Iscrivetevi al canale. Cerchiamo di arrivare a 200 iscritti. Possiamo farcela. Lasciate un mi piace. Attivate la campanella. Per non perdere i prossimi video. Bye bye!